Chiusura in sostanziale parità per il listino milanese, più 0,06% a 21.311,51 punti. Il giorno dopo le vendite che ieri hanno fatto da corollario al via libera da parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ai dazi statunitensi nei confronti delle merci europee. A Milano spicca ancora l'accoppiata Ubi-Banco BPM, in crescita rispettivamente dello 0,47% e del 2,56%. Spread poco mosso sopra 150 punti base. Grazie a tutti.